Hey guys, good morning! Buongiorno ragazzi e ragazze, oggi vi guido in una power dance per una morning routine veramente energetica o anche nel corso della giornata sentite la necessità di fare una ricarica ma non bevete il caffè, prendete una spremota o una centrifuga di frutti e verdure fresche e poi balliamo insieme 4 o 5 minuti. Bastano 5 minuti e anche meno per cambiare la tua energia. Vamos con la power dance! Buongiorno ragazzi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti